signore adesso sentite la sedia allora vado a cercare la pagina cuore di stoffa vado ecco vado a sentire di abbassare tutto aspetto che qualcuno arrivi sono un po sfocata vediamo dovrebbe essere tutto a posto aspetto che qualcuno arrivi in diretta e mi dica che si vede che si senta e soprattutto che dica che bello ditelo vi prego ditelo allora vabbè intanto io vedo che che come al solito tocco dentro tutto e come al solito ho un po delle riprese che tremano ma adesso vi faccio vedere perché stiamo lavorando su questa collezione che mi avete detto da dove salta fuori io dalla borsa di mary poppins effettivamente voi non ve lo ricordate più ma è una collezione che io ho già usato ho già usato perché non sono capace resistere proprio nel momento in cui mi era arrivata poi l'abbiamo abbandonata un po ragazze siete pronte io vi giro è io vi giro così ci guardiamo non so esattamente in che posizione sono se sono intanto scusate vado a prendere questa roba qui perché perché il la nostra diretta si chiama l'anna parodi mi dice ciao lara anna si vede si sente ti prego così almeno facciamo il controllo e poi dopo non ve lo chiedo più bella idea bella idea perché questa diretta si chiama al calduccio quindi vuol dire che qui non è farina del mio sacco me l'ha suggerita la paola nella diretta di mercoledì scorso perché qui dentro c'è niente c'è la mia tisana solo che tra parentesi quando io da sopra quando mi preparo la tisana scendo fa un po freddino e quindi la tisana si raffredda subito se io metto il vestitino guardate se non vi dico che ho detto una stupidata guardate c'è scritto vestito per tazza coperchio e adesso vi faccio vedere perché sennò non vedete più coperchio per tazza e il sottotazza allora questo potrebbe diventare poi ancora tutto pieno di peli perché l'ho finito tre minuti fa potrebbe diventare anche un sottopentola questa potrebbe diventare una presina anche questo potrebbe diventare una presina ma adesso io vi faccio vedere che svestiamo la tazza vedete questa può diventare una presina e però nello e quindi che cosa abbiamo usato adesso mi viene il dubbio ma sicuramente da qualche parte l'ho messa abbiamo usato l'imbottitura fatta apposta quindi l'imbottitura termica quella che tiene un po sia al caldo che il freddo al calduccio perché la mia tisana deve rimanere al calduccio però e questa la mettiamo qui discorso fatto però vi dicevo presina e sottopentola però anche vi giro va facciamo prima aspettate vi faccio vedere di tutto oggi presina e sottopentola ma con i tessuti giapponesi quindi un po più sobria un po più seria con l'albero di natale e le palline e aspettate che tolgo il telefono che era appoggiato oggi andremo a fare il sempre la solita il solito vestitino per la nostra tazza e che ho perso un pezzo incredibile da qualche parte ci sarà e il sottotazza anche con i tessuti country si sente ti vedo ciao lara ci sono si sente vedo bene ciao ciao anche bello brava antonia e quindi io credo che possiamo partire vi devo fare una precisazione perché sapete che quando io preparo le dirette un po sono distratta anche dalle vostre telefonate dai vostri messaggi e quindi effettivamente non so esattamente quanto tempo ci metto a fare un un progetto quindi partiamo dalla fine nel senso che io vi voglio raccontare come fare a fare il sottotazza come fare a fare il vestitino della nostra tazza e eventualmente se c'è tempo andremo a fare per esempio l'albero e quindi vi farò vedere come creare questo alberello con tutti i passaggi se per caso sforiamo con l'orario e insomma come sempre non facciamo in tempo non faccio in tempo a raccontarvi tutto lo faremo in un secondo momento semplicemente perché so che in questo momento io e le mie colleghe stiamo lavorando molto online e naturalmente non voglio assolutamente andare a a cavallarmi a alla creativa che viene dopo di me quindi ho bisogno che ogni tanto ma tanto vi ve lo ve lo dirò vi chiederò l'ora quindi non dobbiamo superare una c'è un certo orario condividete il video per piacere che così almeno chiamiamo altre creative che guardano assieme a noi logicamente sul sito avrete già mi sono dimenticata di mettere il link ma dopo lo mettiamo sul sito avrete già i tre kit il kit con i tessuti americani che sono questi con il pupazzo di neve con con i pinetti con le pecore il kit con i tessuti giapponesi e kit con i tessuti tintin filo e country vi prego condividete andate a vedere logicamente chi vuole è interessato a prezzi quantità e tutto quanto sito qui sotto che calorosa che sono certo questa diretta si chiama al calduccio ma per le maniche corte è perché se no da me ma forse in tutta italia non lo so con felpa magari cappuccio perché tanto lo sapete che io ho sempre la felpa col cappuccio divento sofistica e allora poi comincio a far così già lo faccio con la maglietta perché ogni tanto mi vedete che mi sistemo perché mi dà fastidio tutto con la felpa ancora di più quindi non credete che io abbia tanto tanto caldo è un po l'adrenalina della diretta però non è che sono calorosa anzi andiamo non possiamo perdere tempo andiamo allora vi giro e cominciamo a raccontarvi metto come sempre il mio margine di cucitura di un quarto di pollice vi giro dolores buongiorno non ho salutato nessun altro ma lo dolores mi ha salutato con un cuore così allora vi giro ci sistemiamo vi giro a rate ci sistemiamo così e adesso io vi faccio vedere tolgo la squadra perché ho paura di bruciarla di stirarla poi io vi faccio vedere che andremo a lavorare su questa piccola rennina e logicamente ma adesso aspettate che svestiamo la tazza così e poi magari la metto anche via così evitiamo che lo faccia cadere noi dobbiamo andare a fare un lavoro di questo genere nel senso che piano piano dobbiamo cercare di dare un una curvatura perché vedete che questo pezzo ma io ve le dico le misure tantissimo vale la misura della vostra della vostra tazza allora quattro pollici per cinque ma questi due e quindi tutti i quadratini che avevo sistemato strategicamente perché stessero bene e adesso li ho modificati questi quadratini sono da due pollici e mezzo per due pollici e mezzo di conseguenza avremo poi bisogno di fare una leggera curva questo pezzo è alto e quindi fa un po di diciamo decorazione della nostra tazza quindi è un po alta poi logicamente il vestitino della tazza dovrà essere un po piatto è vero che è un lavoro mignon è un lavoro minuscolo un lavoro velocissimo da fare quindi non avete scuse le vostre amiche devono ricevere queste cosine carine e simpatiche fatte da voi perché regalare il nostro tempo secondo me è il messaggio che abbiamo bisogno in questo natale particolare allora che cosa andiamo a fare lavoriamo a catena diritto contro diritto questi due quadrati uniti a questi e poi una volta che abbiamo unito questi due andremo ad aggiungere questo e questo guardate sempre il verso di questi tinti in filo di stile country io lo metto sempre dalla parte pelosa vi giro e cominciamo andare a lavorare cominciamo andare a cucire quindi distanza di un quarto di pollice e andiamo diritto contro diritto a fare le nostre cuciture nel frattempo finché sapete che io la settimana scorsa era un corso privato ma ho fatto un corso privato senza assolutamente leggere poter leggere un commento e c'è stato un periodo mi è già caduto tutto arrivo è non sono scappata e per un certo periodo di tempo al buio e allora fortunatamente non avevo bisogno di cucire in quel momento ho acceso la telecamera del tablet e vabbè successo anche questo molto carina la iole mi dice buongiorno lara la gianfranca allora sto se non è partito il mio pacco facciamo un'aggiunta cacchio devo avvisare i miei figli che vadano a prendere il tuo pacco perché prima non c'era assolutamente e poi facciamo un'aggiunta certo che facciamo un'aggiunta allora facciamo in questo no vedete che già mi sono allora stavo stirando ma io devo stirare i due vabbè state stavo stirando ma tanto non avete visto allora facciamo così non andiamo a stirare tanto non avete visto niente quindi rifacciamo tutto e vado a cucire anche l'altro pezzetto quindi in questo modo facciamo così e facciamo così e vado essere fatina qualche volta ai suoi pregi poi sicuramente che ridere cercherò gli spilli non sono abituata non li troverò però però quando le cose fanno piacere allora adesso mi alzo e facciamo in questo modo andiamo a stirare il tutto verso sinistra la prima fetta e la prima riga diciamo la e la seconda lo cuciamo verso destra in questo modo eccoci qua colla vado a questo è un esperimento è non ho mai usato questa colla sui tessuti tinti in filo country sui giapponesi funziona benissimo su questi non lo so ancora quindi è una prova che sto facendo di fronte a voi è un esperimento allora ho messo una perla di colla andiamo ad attivare con il ferro da stiro rimango un po più del normale perché vorrei che tenesse anche sui tessuti scusatemi continuo a toccare sui tessuti anche tinti in filo country vediamo io credo proprio di sì perché comunque non mi si sta muovendo niente vedete che io ho un bellissimo punta spilli adesso non mi stanno servendo gli spilli perché comunque vado Elena benvenuta carino il tuo bracciale certo e guardate vedete che colla qui colla qui ho fatto gli incroci perfetti allora lo so in questo periodo l'unica cosa che so fare è farvi viaggiare con questo tablet vi giro vi giro qualche volta non vi avviso neanche allora questo è il nostro vestitino per il per la tazza questo è il nostro vestitino per la tazza la parte decorata che cosa facciamo diritto non guardatevi prego diritto contro diritto e andiamo a fare la cucitura non guardate perché per una volta io veramente raramente non mi metto a passare i fili del punto festone ma questo ho detto tanto c'è l'imbottitura spessa dietro non spessa l'imbottitura termo termo adesiva e allora e allora figuraccia fa niente insomma e sul davanti è bello perché vi giro perché noi facciamo questo questo lavoro quindi appoggio la parte disegnata la parte decorata la parte che ha più cuciture e mi sposto sul faccio tutta la cucitura sulla destra adesso aspettate che faccio un po di pulizia anche qui vi sposto in alto in questo modo così aspettate ok perché che cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo logicamente mettere un retro e mettere un'imbottitura allora facciamo questo ci serve assolutamente perché poi faccio come prima e come come nel prototipo che avevo fatto che devo che devo disfare di nuovo tutto allora imbottitura termica che cosa vuol dire vedete questa lametta di metallo che sembra che sembra lucido questo è quella quella parte che riesce ad accumulare o il caldo o il freddo e che ci aiuta un po a mantenere la temperatura che vogliamo facciamo così ma assolutamente andava bene anche come l'avevo sistemata prima si taglia assolutamente vedete facilmente con la nostra rotella assolutamente non rovina la rotella è comunque una cosa fatta apposta quindi con la nostra attrezzatura non succede assolutamente niente vediamo se va benissimo perché questo altro pezzetto di tinto in filo che stavo usando va bene quindi cerco di sistemarlo un po' cercando magari di andare a ripercorrere diciamo lo scozzese quindi non lo mettiamo per sbieco vediamo di fare questo lavoro ah uso gli spilli perché vado a spillare guardate che bello vado a spillare questo questo sandwich questo sandwich che io ho fatto ne ho messi troppo pochi di spilli e adesso a questo punto andiamo a trapuntare come si fa a trapuntare se voi a casa avete delle macchine che non sono professionali avete delle macchine piccoline avete delle macchine che non hanno tutti gli accessori adatti ad un trapunto diciamo mi ripeto professionale allora andiamo a lavorare stiamo lavorando su degli strati finissimi di tessuto quindi non ci serve un piedino doppio trasporto non ci serve niente di così esagerato andiamo a fare delle cuciture con il nostro piedino della macchina da cucire e io vado a prendere proprio una distanza piedino fissata decisa da me semplicemente e vado a fare una cucitura a destra una cucitura a sinistra della mia cucitura vedete adesso vi faccio vedere in modo da creare questa griglia che mi aiuta a definire il tutto a renderlo un po più carino un po più un po più bello e quindi logicamente a renderlo un mini 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 quilt però in un modo molto molto facile vi giro facciamo in questo modo e adesso veramente semplicemente aspettate che vi sposto di nuovo semplicemente andiamo a devo solo spostare gli spilli perché logicamente gli unici posti dove non dovevo metterli e li ho messi vedete io vado a prendere come distanza piedino questa e quindi la cucitura sarà più o meno qui le faccio tutte le in tutti i posti dove mi viene indicata la distanza piedino vorrei essere sicura di avervi messo in posizione giusta eccoci qua quindi vedete che ago assolutamente normale quello che uso nelle mie cuciture e faccio praticamente tutte le cuciture adesso stavo guardando questa non la facciamo perché la nostra renna occupa tanto spazio e andrei insomma un po' a decorare il tutto sulle corna della renna non mi piace però vedete molto semplicemente vado a destra e a sinistra e vedete che faccio questo lavoro questo qui è il modo di unire i tre strati lavorare poi quando si tratta ma devo metterlo qui lavorare quando si tratterà di proseguire con il nostro binding in assoluta comodità e in assoluta sicurezza perché oramai i tre strati sono fissati e non si muove più niente in più rende il lavoro un copritazza magnifico siamo arrivati io e mamma Tommy benvenuto eccoci qua quindi la riga che sarà orizzontale ci devo mettere un po' più di per cucire questa riga ci devo mettere un po' più di attenzione perché perché io inserisco qui vado a prendere con il piedino la mia distanza proprio dove c'è la cucitura abbasso l'ago nella cucitura della mia scacchiera con la mia renna se voglio posso fare anche un punto di fermatura in modo che sono sicura che poi da lì non si muove più niente vado a fare la mia cucitura vedete che con una macchina che ha un buon trasporto di suo non abbiamo bisogno del piedino doppio trasporto vedete che non ho fatto nessuna 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 piegolina tutto molto molto regolare tutto molto cucito bene e soprattutto con poco perché guardate abbiamo praticamente finito faccio di nuovo il mio punto di fermatura abbiamo praticamente finito ho trapuntato quello che volevo trapuntare posso vi giro così ci guardiamo un attimo posso assolutamente pensare di trapuntare magari tutto il contorno dell'arena posso pensare di trapuntare tutto qui magari e allora mi rimangio quello che ho detto sulle macchine poco professionali possiamo andare a fare un free motion possiamo andare a giocare su una cosa piccolina invece che giocare su una coperta quindi lavorare e avere tanto tempo dover avere tanto tempo a disposizione qui possiamo giocare possiamo anche fare i nostri allenamenti quindi concederci degli errori perché comunque il pezzo è piccolo quindi se io faccio un errore perché faccio un tipo di trapunto che non rende così bene e lo faccio su una coperta se lo faccio su questo vabbè ho il vestitino della mia tazza e quindi tutte le volte che guarderò questa tazza mi ricorderò degli errori che ho fatto e di anno in anno dei progressi che ho fatto allora voi vedete che se io vado a creare un binding mi vado devo andare a tagliare questo pezzo e logicamente vado a tagliare anche un pezzo di renna non lo vogliamo fare questo lavoro quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo creare ma adesso ve lo vado a prendere dobbiamo andare a creare una curva di questo genere qual è la soluzione per fare una curva di questo genere facendo il binding logicamente facendo un binding in sbieco perché tagliando il binding mettendo la stoffa a 45 gradi noi abbiamo la possibilità di fare questa dolce curva perché non è uno spicchio perché non è una curva così però facilissima riusciremo assolutamente però facciamo il binding in questo modo non possiamo assolutamente pretendere di fare il binding tagliandolo nel senso perpendicolare del tessuto e riuscire a fare questa curva vedete senza piegoline senza spigoli come si fa a tagliare questo binding allora in questi giorni me l'avete chiesto tante perché vi giro intanto vi giro devo andare a prendere la squadra me l'avete chiesto in tantissime e guardate questo intanto che viaggio perché stiamo arrivando alla fine di tanti lavori che avevamo iniziato quindi il runner le tovagliette quindi in tantissime mi chiedete la misura del binding diciamo che se l'imbottitura è quella termica o se è l'imbottitura da quilt o se è l'imbottitura come quella dei runner quindi termoadesiva da un lato io la strisciolina per il per il binding la faccio di due pollici e un quarto diciamo che se lavoriamo su una imbottitura finissima potrebbe anche essere di due pollici ma poi succederà che qui negli angoli tira un po' e quindi preferisco lavorare un po' sul un po' più sull'ampio facessimo il binding di due metri di due pollici e mezzo sarebbe rischieremmo in qualche punto di averlo un po' molle e quindi anche lì preferisco fare questa via di mezzo logicamente per un quilt con un'imbottitura un po' più spessa del solito due mezzo va benissimo intanto vi ho dato un po' di indicazioni poi logicamente sapete che le indicazioni sono molto molto personali e insomma variano rispetto a tutti i lavori che dovete fare vabbè non vi ho raccontato niente l'angelo arriva io sono in ritardo ma devo scappare e arriverò più tardi il disegno della renna la monica metter anzi ho già messo i kit sul sito non succede niente se lasci il ferro appoggiato sai che non ho capito dove se lascio il ferro appoggiato se pensi se parli di questo piano di lana si si brucia allora andiamo solo a fare questa rifinitura infilo l'ago e passo sul retro poi infiliamo tutti i fili sul retro allora vado sul retro a questo punto vedete che io in ogni cucitura ma logicamente queste qui in fondo non ci interessano perché poi verranno coperte dal binding queste due cuciture le infilo se riesco le infilo riposiziono praticamente nel punto di uscita vado un po' lontano devo accorgermi di andare a prendere anche un po' di imbottitura e vado a tagliare vicino logicamente questo è un passaggio che potete guardare allora davanti alla televisione mentre ascoltate la musica insomma un po' tutto questo progetto è un progetto che funziona anche se siete un po' distratte se guardate la televisione è veramente un progetto facile non c'è niente da contare se non due pollici e mezzo per due pollici e mezzo però adesso come vi dicevo andiamo a decidere di fare il nostro binding allora come andiamo a fare il binding sulla vostra squadra spero si veda avete una serie di righe che nel patchwork tradizionale abbiamo usato veramente poco vedete questa sorta di arcobaleno allora dobbiamo andare a cercare la riga che ha è contraddistinta dal pallino consegnato 45 gradi ce n'è una e ce n'è una seconda facciamo in questo modo mi alzo vedo ok ci siete in inquadratura vado ad appoggiare questa riga così vado tutto il più in là possibile e comincio a tagliare ho creato un angolo a 45 gradi questo vi sembra uno spreco potrebbe essere che è uno spreco facciamo in questo modo qui allora allora noi possiamo fare così aspettate che non ci sto vado sempre in questo modo io taglio e adesso taglio e in questo modo abbiamo questo che comunque diciamo che una fetta forse due le possiamo recuperare e poi abbiamo tutto il resto del nostro tessuto una volta che abbiamo fatto questo taglio cominciamo ad utilizzare prima il nostro quadratino poi ve lo risistemo e l'altro una volta che abbiamo fatto questo taglio angolo 45 angolo a 45 lo posiziono verticalmente verso di me e questo lato è quello che io devo andare a prendere come riferimento per andare a tagliare la mia fetta da due pollici e un quarto non lo faccio quasi mai ma se voi siete più sicure allineate questo lato ad una delle vostre righe della della squadratura della vostra del vostro piano di taglio vado a cercare i due pollici e un quarto che sono in questa posizione e una io direi che per il piccolissimo lavoro che dobbiamo fare utilizzo anche questo perché comunque non si sa mai ma il pezzettino non so se ho tagliato sì quindi questi due li abbiamo fatti questo assolutamente non è uno scarto ma adesso non ci servirà io direi che vado a prendere questo lo metto in posizione e direi che un'altra fetta me la taglio poi al limite se ne abbiamo bisogno un'altra la taglieremo e vedete che vado a fare un'altra fetta forse addirittura ne avremo bisogno un'altra però vabbè allora la squadra potrebbe essere che non mi serve più perché potrei andare ad utilizzare questa squadretta piccola perché perché adesso dobbiamo andare a mettere a sistemare questa di di sbieco no di angolo 45 gradi perché i lati del mio tessuto non erano stati squadrati quindi faccio in questo modo fate pazienza ma vi devo no vedo senza spostarvi allora andiamo ad allineare la diagonale che c'è su questa squadretta c'è anche su questa piccolina però logicamente tribulereste un po' andiamo a allineare la diagonale sulla parte superiore e vedete che io vado sempre se non mi taglio vado a crearmi il mio angolo da 45 gradi fatto bene stessa cosa devo fare in questo modo allineo questa volta sulla parte inferiore vado il più verso sinistra possibile e un po' scomoda ma vado a tagliare dobbiamo fare per tutti questo procedimento allora andiamo ad allineare vedete che una volta lo allineo verso il basso una volta lo allineo verso l'alto ma intuitivamente il taglio che dobbiamo fare lo vedete anche voi su questo che cosa faccio lo faccio qui andrei a sprecare tantissimo quindi lo metto in basso e vado a mantenere il mio taglio logicamente quando andremo ad unire i pezzi probabilmente uno dei due verrà sprecato diciamo che questo mi va bene così quindi faremo un diritto contro diritto vediamo questo sì anche questo lo possiamo usare allineiamo verso l'alto adesso sono scomodissima e lontanissima ma vedo di riuscirci guardate non fatelo mai vi prego non fatelo mai e scusate e facciamo in questo modo e vado a allinearmi qui e vado a tagliare anche questo eccoci che cosa dobbiamo andare a fare in questo in questo caso dobbiamo crearci il nostro sbieco quindi un di una lunghezza che ci permetta di fare tutto il contorno andiamo a fare questo lavoro diritto contro diritto e vado a cucire aspettate che ve lo faccio bene lo mettiamo così allora questo è il nostro sbieco da unire appoggio i miei due tessuti in modo da fare la mia cucitura guardate oramai lo sapete a memoria ve l'ho spiegato tantissime volte questo è il mio primo punto faccio tutta la cucitura a distanza di un quarto di pollice e questo sarà il mio ultimo punto questo lavoro lo stiamo facendo in questo modo perché stavamo partendo da un tessuto poco largo se lavorassimo su un tessuto lunghissimo l'unione dello sbieco potrebbe venire anche così in questo modo quindi con un tessuto che finisce così e un tessuto che finisce così lavorando su uno sbieco già su uno sbieco in partenza lavoriamo già su un tessuto tagliato allora potete o potete evitare di mettere gli spilli vedete voi anche in base alla vostra praticità in base a quanto avete cucito nella vostra vita in base alla vostra pratica vi sposto e vi giro cerco di non muovere niente facciamo diritto contro diritto e piedino su ago giù vado al mio incastrino quindi vado nel punto proprio dove vi avevo detto che c'era il mio angolino e vado a fare una cucitura il più possibile dritta e sapendo che questo deve essere il mio ultimo punto di uscita ho dato ultimo due volte ogni tanto mi incastro perché vedete che se io apro devo avere una linea retta qui e una linea retta sotto andiamo a prendere l'altro pezzetto ricordatevi sempre che è fatto così vedete quindi aspettate che guardo se mi vedete sono così abbasso e quindi a questo punto ho due strisce di tessuto che sono assolutamente perpendicolari fra loro logicamente me lo sistemo un po' meglio perché senza appoggiarmi ho delle difficoltà mi sta sfuggendo qualcosa che non vi sto dicendo mi verrà in mente anche qui il mio primo punto c'era l'incastrino il mio il mio ultimo punto era proprio in questo buco a questo punto apro e ho fatto un'altra linea retta adesso vi devo alzare dubito che basti per tutto il giro e siccome voglio insegnarvi anche l'unione che tantissime saprete già fare però volevo insegnarla anche per le nuove signore arrivate al limite ne taglieremo un'altra allora vado ad aprire le cuciture che ho fatto di unione quindi in questo modo aspettate che mi sono incastrata logicamente con il ferro vado a fare così vado è sempre meglio pulire bene quindi eliminare i codini quindi sia da una parte che dall'altra adesso dal momento che lavoreremo come se fosse un binding andiamo a piegare meglio sì ho guardato se eravate in inquadratura meglio facciamo questo lavoro e più facile sarà la nostra la nostra lavorazione successiva quindi dovremo fare comunque meno attenzione sempre attenzione ma un po' meno attenzione quando andremo ad unire i tre pezzi del sandwich che comunque sono già uniti dal nostro protrapunto uniti poi con il binding una cosa che eccoci qua qui finiscono in sbieco ma lasciamo così e poi vediamo chissà se aspettate che proviamo semplicemente per vedere sì dovremo essere a posto allora una cosa che non vi ho mai detto ma vi giro così almeno ci guardiamo e vi faccio vedere da qui allora una cosa che spessissimo allora il binding lo facciamo tantissime volte ma potrebbe essere che spessissimo mi dimentico di dirvi è che la cucitura del binding deve essere fatta sul dritto del mio tessuto perché perché noi andremo a mettere il binding aspettate che me lo sistemo in questo modo cioè termine della stoffa quindi il tessuto il nostro sandwich non lavorato un po' largo nei quilt diciamo 10 cm in più di imbottitura e altri 10 cm in più di retro diciamo che su questo pezzo piccolo diventa tutto più grande ma in proporzione quindi questo centimetro e questi due centimetri sono più che sufficienti perché comunque ho tutto sott'occhio vado a fissare la parte doppia quindi vedete la parte aperta vedete no perché non riesco la parte aperta del binding proprio a filo del mio del mio top dal diritto perché quando poi noi andremo a rivoltare vedete che ci sarà una rifinitura con la cucitura nascosta quindi sarà perfetto nei in questo in questo caso poi vi farò vedere che dobbiamo ribaltare ribattere tutto con un punto nascosto a mano ci sono dei pezzi mi viene in mente per esempio le salviette oppure gli astuccini quelle cose che sono devono essere belle scusate il porta salviette che devono essere belle da piegate da chiuse e devono essere belle da aperte ecco lì se Dio vuole dovete fare ancora più attenzione anche alla ribattitura e quindi al punto nascosto sul retro da dove si comincia a fare il binding vado sempre a cominciare diciamo se si può in un posto nascosto quindi per esempio nella nella pochettina che va ripiegata magari nel lato che sta più all'interno se dobbiamo fare il binding di una borsa magari nel lato dove poi di sicuro verrà coperto dalla patella della borsa così mi viene mi viene in mente su una cosa del genere io la metterei sul basso perché comunque quando noi andremo a ricoprire la nostra tazza questo l'unione del binding che comunque deve essere perfetta quindi non abbiamo scuse per farla bene però deve deve venire un po' nascosta quindi sicuramente sotto e non sopra dove si vede di più sul lato lungo sul lato più lungo che abbiamo logicamente questo è il lato lungo questo e questo sono corti qui c'è questa diciamo mezza difficoltà in più della curva sì della curva che dobbiamo fare quindi logicamente partiamo da qui dove partiamo partiamo da un lato quindi più vicino all'angolo ma non nell'angolo l'angolo dobbiamo cucirlo subito lasciando un pezzettino che ci servirà poi per l'unione del binding diciamo che lo lasciamo più o meno così vi giro e ci sistemiamo in modo da poter iniziare a lavorare allora abbiamo detto che il lato è questo quindi la renna a testa in giù ci mettiamo in posizione mettiamo in posizione il lato aperto del binding sul bordo andiamo a lavorare praticamente in questa posizione quindi diciamo che in proporzione a questa a questo piccolo oggettino che stiamo facendo a 5 centimetri dall'angolo distanza di cucitura quindi margini di cucitura sempre la distanza del piedino patchwork e vado ad allineare bene vi ricordate che se ho fatto una bella cucitura se ho fatto una bella stiratura mi aiuta perché non devo andare a controllare troppe cose arrivo fino all'angolo fino all'angolo dove se l'angolo vengo a vedere se l'angolo finisce qui la mia cucitura l'ho fermata a un quarto di pollice prima vedete quindi praticamente a distanza di un quarto di pollice perché motivo perché noi abbiamo bisogno di portare in su aspettate che lo pieghiamo così almeno vedete meglio portare in su il mio binding e poi portarlo in giù questo è il lavoro che dobbiamo andare a fare ve lo faccio così così almeno lo vedete di più e io sono più comodo e lo faccio con precisione allora tutto il binding sulla destra mi sono fermata rispetto al termine del mio top ad un quarto di pollice porto in alto vedete che sono mi sono fermata esattamente sull'angolo ho una linea quindi la piegatura la faccio a 45 gradi sposto tutto questa cosa qui in alto e poi di nuovo la sposto in basso eccoci ho creato il mio angolo retto qui e un angolo retto qui adesso vi giro con una mano e sposto con l'altra aspettate così perché io non ho voluto muovere il mio angolo fatto qui posso partire anche da fuori perché tanto poi è una cucitura che non ci interessa che viene poi addirittura tagliata e adesso sto pensando mi manca qualcosa ma poi andiamo a vedere se ho tutto mi sono fermata di nuovo ad un quarto di pollice tolgo tutto ecco la difficoltà che vedo nelle signore che mi dicono mi sono incastrata e non so fare il binding è proprio lo staccare il lavoro quando io vado a fare questa cucitura arrivo adesso ho esagerato sono andata un po' troppo dovevo fare almeno ancora due punti arrivo qui e stacco completamente il lavoro mi appoggio sul tavolo vi giro in frettissima sono tutto sulla destra porto tutto il mio binding sull'alto e vado a ripiegare vedete in modo da fare un angolo retto qui e un angolo retto qui è il lato vi giro è il lato aspetta scusatemi povere quanti spaventi eh ma per mantenervi attente faccio così intanto la gola sta già andando allora è il lato credo di aver l'acqua sì meno male è il lato dove io devo fare una curva comincio a fissarmi il mio binding vedete che io sono andata a cucire anche il binding che avevo ripiegato perché tanto deve essere ben fissato adesso devo posizionarmi il tutto pur sapendo che vedete in questo caso dovrò fare questa curva scusate adesso devo fermarmi un attimo e bevo devo fare questa curva per eh coprire questo angolo quindi fare dolcemente questa curva e ritrovarmi esattamente qui per il più possibile non mangiare la mia renna posso anche fare un attimo di decorazione in più e quindi guardate vado un po' più verso il basso vedete mi faccio una curva quindi un diciamo una decorazione ma poi vi faccio vedere cosa faccio giro e una volta che io sono in questa posizione arrivare aspettate che c'è lo spillo lo tolgo ok ah c'ho il punta spilli arrivare di nuovo alla solita linea retta alla distanza di un quarto di pollice dal top in cui mi devo fermare guardate ho cercato di vedete ho fatto una curva un po' in bassa per dare un motivo una decorazione qui voi vi potete divertire logicamente non potevo vedete che tira un po' non potevo assolutamente esagerare non potevo scendere tanto 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 perché ci voleva un po' più di attenzione adesso bevo sono arrivata e vi giro sono arrivata in questa posizione faccio in frettissima eh ma si vede che la polvere è per come urlo sono arrivata in questa posizione tutto il mio binding lo porto in alto ho fatto una linea di 45 gradi e tutto il mio binding lo porto verso il basso ho creato un angolo retto qui e un angolo retto qui vi giro con una mano sola aspettate ok e andiamo logicamente una cosa che ho guardato adesso ma mi sono dimenticata di dire se per esempio come ho fatto io qui e qui era solo puntato con uno spillo addirittura ricordatevi che se siete più sicure e se vi sentite più tranquille potete anche fare un'imbastitura quindi se fate come ho fatto io quindi avete esclusivamente uno spillo vedete qui guardate cosa sta succedendo che dietro si sta piegando fate sempre attenzione che quando andate a lavorare dovete avere tutti e tre gli strati sono tutti errori che sono assolutamente adesso vi leggo assolutamente assolutamente recuperabili nel senso che finché non si taglia niente noi possiamo disfare non buttiamo via niente però se voi ci fate attenzione prima sarete meno così meno meno tristi meno sconsolati a dover rifare a dover disfare le cose per effettivamente esattamente una questione di disattenzione il binding lo porto tutto sull'alto creo una una linea di 45 gradi e porto di nuovo tutto sul basso in questo modo così aspettate che vi giro perché facciamo l'ultima cucitura guardate adesso vi giro questo merita guardate ma se noi non mettiamo l'elastico come andiamo a cucire il nostro come andiamo a vestire la nostra tazza allora l'elastico lo mettiamo così quindi con il bello all'interno e con le parti non cucite così e vi giro di nuovo e andiamo a cucirlo logicamente fate attenzione mettete degli spilli passate anche uno o due volte mentre cucite il binding tanto è una cucitura che rimane dentro ma è una cucitura vedete così torno indietro è una cucitura che vi che vi aiuta a mantenere a legare bene questo 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 elastico oh adesso rifacciamo tutto proviamo tento di non spostarmi così almeno non vi sposto 180 volte e di nuovo vado a ultimo lato quindi quello dove dobbiamo fare un po' più d'attenzione perché dobbiamo fare l'unione dei due binding vado a fare una piccola cucitura quindi l'importante è terminare il e fissare il mio angolo vedete l'angolo è fissato l'angolo è fissato forse sto esagerando in questi diciamo 20 centimetri che che mi separano dalle due cuciture però intanto vi giro qua però insomma così almeno vi faccio vedere le cose per bene allora dobbiamo logicamente unire i due binding come andiamo posso leggere un po' di messaggi prima quanti copri tazze escono con un kit tanti tantissimi veramente tanti e bravissima Laura Fanchini quando inserisci l'occhiello per chiudere adesso Miranda come se l'avessi letto torniamo indietro e rifacciamo se vi siete dimenticati mi sono dimenticata tre due volte su tre quindi sono già un fenomeno allora guardate che cosa stiamo facendo tra l'altro ho perso eccolo qui il copri tazza guarda fior di lavanda Giuliana allora il copri tazza il vestitino per la tazza quindi dopo vi farò vedere e la tazza sarà dentro qui il coperchio per la tazza e sarà così e questo è la tovaglietta dove tazza coperchio biscotti della mia tisana perché io credo di essere l'unica a mangiare i biscotti anche con la tisana allora andiamo avanti come facciamo l'unione di questo binding innanzitutto vado tanto ne abbiamo in abbondanza vedete che avevo pensato di non averne in abbondanza invece ce l'abbiamo vado a tagliare perpendicolarmente diciamo il meglio possibile perpendicolarmente queste due questi due lati vado a tagliare un pezzettino del mio binding quando io ho questo pezzettino lo apro e lo allora e lo uso così questa è la larghezza è la misura della mia larghezza che io vado a sono sicura che sarà scomodissimo perché c'è proprio qui la cucitura ma se mai ne distiamo ancora un pezzo la vado ad appoggiare qui vado a piegare il mio binding in questo modo e senza paura vado a tagliare in questa posizione vedete io praticamente metto il mio adesso vi faccio vedere ho tagliato vedete questa è la misura e i miei due pezzi devono sormontare della misura che è derivata da un piccolo taglio che faccio vedete del mio binding devo andare a disfare un po' di più qui perché sono un po' troppo vicino mi raccomando non andate a disfare l'angolo perché sennò poi dopo vi perdete e non capite più niente guardate il movimento delle mie mani apro questo apro questo vedete ce li ho così quindi sono uniti così li apro e li sistemo no non è vero adesso mi sono incastrata non mi ricordo più come si fa li apro e li metto in questa posizione devono essere perpendicolari vedete come una striscia così e una striscia così allora logicamente bisognerebbe andare a fissare con degli spilli segnare una diagonale ma noi facciamo le cose in frettissima artigianalmente proprio quindi vedete che è un po' scomodo pensate su una presina molto più piccola è un po' scomodo questo lavoro ma io adesso ho fissato questa sarà la mia partenza quindi qui esattamente qui vado a fare tutta la diagonale il più precisamente possibile e il mio ultimo punto sarà qui in questo modo ma voi potete fare tranquillamente la prova di una simulazione di cucitura soprattutto la cucitura chi se ne frega ma soprattutto prima del taglio perché se no veramente andate a dover disfare tutto questa la mia cucitura verrà bene se io la piego capisco che la mia cucitura verrà bene per esperienza personale fidatevi soprattutto del vostro taglio ma ancora di più cercate di andare un millimetro un millimetro e mezzo più con una con una misura un pelino più piccola cioè tagliate un po' di più soprattutto perché stiamo lavorando in sbieco e quindi potrebbe essere che adesso vado a fare quella cucitura che vi avevo detto che naturalmente ho tolto gli spilli che ho lasciato gli spilli che mi danno fastidio e ho tolto quelli che mi servivano preferisco lasciare gli spilli quelli lontani quelli che non mi danno fastidio nella cucitura mi metto così e vado a vedete che è un po' scomodo perché questo passaggio mi pesa il lavoro va verso il basso quando io ho fatto i primi due tre punti in teoria sono abbastanza organizzata e il mio lavoro è comodissimo questo punto a spilli pensavo di non ricordarmi invece vedete che mi dimenticherò di toglierlo poi sicuramente guardate allora io sono arrivata adesso vi faccio vedere bene sono partita proprio dall'angolino e sono arrivata nell'angolino quindi in teoria dovrei aver fatto le cose abbastanza precisamente apro vedete che ho paura che sia un po' molle però logicamente è fatto con lo sbieco quindi si andrà poi a ristabilire un po' ho visto che comunque è tutto ok è giusto vado a tagliare questo pezzetto ad un quarto di pollice apro se siete in inquadratura magari è meglio apro la mia cucitura in questo modo ripiego se riesco guardate che cosa facciamo vado anche a fare una stiratura e vado a cucire il mio binding in questo modo vado a recuperare la mia cucitura precedente e logicamente eccoci e vado ed esco a questo punto io ho unito il mio binding logicamente ci sarà un po' da vedete queste sono le linee i fili del trappunto da togliere ma questo è il mio binding finito cosa andiamo a fare adesso con la rotella controllate bene sempre che voi abbiate il retro bello piatto e non ci siano delle pieghe cosa dobbiamo andare a fare adesso dobbiamo vi giro andiamo sul piano di taglio con tantissima attenzione perché è un punto particolare è un punto dove potreste sbagliare tanto con la con la rotella squadra o senza squadra andate a tagliare proprio a livello del binding che quindi è a livello del top allora queste due codine preferisco non tagliarle in modo che quando andremo a chiudere il binding staranno dentro è sempre più una sicurezza è sempre una fermatura dell'elastico che potrebbe invece saltare via dopo uno o due utilizzi quindi cerchiamo di si potrebbe anche addirittura fare così e andare a rifare anche un'altra cucitura per fissarlo meglio qui allora un'altra cosa importantissima vedete che qui è il bello della nostra lo vedete si è il bello della nostra cucitura è il punto in cui quando poi andiamo a rivoltare lo sbieco dovrebbe venire tutto unito è comunque un interno ma non dobbiamo tagliarlo quindi qui partiamo veramente con molta attenzione e poi andiamo a farci tutto il giro in questo modo che non so se siete ancora in inquadratura perché fatemi vedere perché qui c'è lo spessore e perché qui c'è lo spessore ok ho sempre paura di aver lasciato qualche spillo e di buttare via poi la lametta anche qui vado a tagliare così e anche qui vado a tagliare quando io rivolto il binding l'angolino merita di essere tagliato soprattutto se sto usando questi tessuti che se stanno un po' morbidi e meglio ecco che cosa pensavo che aspettate che vado a vedere non ho le wonder clip però almeno ma allora sicuramente ci sono ah forse le ho trovate eccole qui le ho trovate quindi ne prendiamo un po' e che cosa andiamo a fare andiamo a ripiegare il tutto e andiamo a fissarci le wonder clip come vado a fare l'angolo esattamente vabbè qui poi li passiamo o li nascondete sotto l'angolo sul retro lo facciamo esattamente come abbiamo fatto il davanti quindi andiamo a cucire fino qui a un quarto di pollice e quando è cucito vedete che noi andiamo a fare una piccola ribattitura vi sistemate tutto il binding con le wonder clip quando state cucendo e arrivate all'angolo togliete il wonder clip di bellissimo progetto grazie ti riguardo dopo la Monica deve andare a fare i compiti con Tommy allora vedete che faccio così quindi noi cuciamo qui io adesso una wonder clip lo metto in questo modo quando andrò a cucire tutto il mio binding qui vado a risistemarlo meglio questi potete tranquillamente andare a nasconderli all'interno anche qui la rifinitura a mano è quella che vi servirà poi per nascondere tutto quello che potete nascondere vedete in questo modo così eccoci eccoci e vabbè wonder clip ne ho prese troppe poche ma facciamo tutto il giro facciamolo intanto vi chiedo come sempre la cortesia mi dite per piacere che ore sono perché io dovrei farvi vedere ancora due cose magari se vado in su con il bellissimo progetto anch'io carinissimi carinissimo anch'io la joella non so anch'io mi dimentico del portaspilli invece io no hai visto Daniela che prossima volta il portaspilli con una taschina per mettere le wonder clip così almeno poi dopo ho tutto con me in negozio avevo anche un grembiulino da mettere su dove avevo dentro la lama la rotella una squadrettina piccola sono le 15 andiamo avanti ancora almeno un quarto d'ora perché vi devo far vedere due cose e secondo me ce la facciamo allora così vedete che io sono arrivata in questo modo e eccoci qua sono arrivata a chiudere il binding con un punto nascosto lo faremo poi e questa è la nostra tutto sporco è il nostro copritazza che cosa dobbiamo andare a fare a questo punto logicamente una volta che abbiamo chiuso il binding facciamo passare il nostro elastico sotto al manico andiamo a tirarlo il più possibile e sappiamo il punto in cui fissare il bottone allora volete fare il coperchio per la tazza quindi coprire questa tazza tutto facile tutto normale ma vi faccio vedere come fare il bottoncione gigante allora ci serve un pezzo e usiamo questo un pezzo del nostro tinto in filo diciamo che almeno per il coperchio se volete potete riproporre la renna o se no prendete anche anche per il coperchio fate dei quadretti in questo modo prendete il tessuto che vi piace di più dei tinti in filo che potrebbe essere magari quello che avete usato per l'interno di sopra potete fare un trappunto magari un po' più fitto di questo un po' più particolare lo sapete che dovete lavorare di fantasia tazza quindi più o meno la larghezza della nostra tazza aspettate che vediamo se riesco se si vede sì credo di sì poi lavatela la tazza vado a fare tutto il contorno ho fatto un po' un pasticcio vado a fare tutto il contorno della mia della mia tazza diciamo che è un un buon compromesso per avere un contorno e per avere un bottone insomma abbastanza proporzionato allora aspettate che mi sistemo un po' più comoda perché così almeno vi faccio vedere che vado a tagliare forbice è una cosa veloce vado a tagliare più o meno a 2-3 mm qui non ce n'è neanche ma fa niente in questo modo quindi tutto intorno alla mia linea del pennarello magari se non tremate come faccio io è meglio vediamo come sono messa ok faccio solo una stiratura ma è una cosa velocissima e facile allora bisognerebbe avere un filo che non è un filo da 50 ma è un po' più cos'è una presina allora Elena secondo me adesso hai visto è il vestitino per la nostra tazza così la tisana rimane al caldo il coperchio che è vero può diventare poi una presina e io vabbè l'ho fatto con i tessuti americani il primo prototipo il sottotazza quindi anche questo da mettere da mettere sulla nostra tazza ma prima di lasciarvi poi risistemiamo tutto il set così com'è allora aspettate che lo sapete che io mi devo sempre sedere per lavorare perché se no mi tremano le mani e mi tremano le gambe provo a mettermi in questa posizione e vedere se mi vedete allora ah che che scema l'ho stirato guardate vedete ho stirato e non c'è più il segno del mio pennarello fa niente perché tanto era già era già sistemato devo fare un piccolo orlino vi dicevo meglio se utilizzate un filo un po' più spesso io adesso sto facendo con questo filo e non non dovrò tirare proprio tanto 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 faccio un punto filza morbidissimo è lontano vedete che piego a mano a mano che vado avanti faccio un punto filza così in questo modo in ritardo ci sono benvenuta giovanna aiuto aspettate che facciamo così poi certo che sarebbe l'ideale avere un'imbottitura a fiocco però nel momento che poi io alla fine ho sempre tutte queste attrezzature ma mai dove mi servono io per esempio ieri per fare il mio pomello del coperchio vedete che sto andando veloce ma con un punto molto molto largo facciamo un bordino e ripieghiamo il tutto in modo da fare una cucitura che poi aiuto una cucitura che poi ci si arriccia allora quando voi però prendete una forbice brutta per fare questo lavoraccio quando voi non avete un'imbottitura a fiocco potete tranquillamente prendere l'imbottitura che vi è avanzata tipo una cosa così e tagliuzzare insomma in modo da riuscire ad inserirla aspettate che io l'imbottitura a fiocco voglio andare a prenderla perché è un po' più arrivo 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 sempre se ce l'ho fissate dove ce l'ho perché è un po' più è un po' più comoda un po' più morbida da da fare entrare beh logicamente io esagero eh no ne basta pochissima vedete praticamente la sistemate in questo modo così e provate a tirare logicamente vi dicevo magari questo questo filo da 50 è troppo poco è vero che l'ho messo doppio però dopo di che tanto questo non è un lavoro che che si vedrà ma è un lavoro che rimane dentro nella vostra nel vostro coperchio la piegate lo ripiegate su se stesso vedete in questo modo cercate di andare a ripinzarla un po' se non vi piace che vi sembra troppo grosso potete rimpicciolirlo se non vi piace potete mettere anche un bottone magari un bottone di quelli un po' cicciotti che l'importante è che sia facile poi da prendere questo e da da prendere questo coperchio e da alzare quando dovete bere quando andate a utilizzare il tessuto americano non credo che ci siano particolari problemi se state usando i tessuti country e i tessuti giapponesi un po' meno ma soprattutto i tessuti country che qui sono un po' pelosetti io per fare il coperchio il peloso lo metterei come interno e non come come esterno probabilmente è solo una mia sensazione però sarei nel senso che mi sembra che questo micropelo non vada dentro nella mia tisana logicamente vabbè teniamo conto che non c'entra niente questo bottone vogliamo mettere questo è il nostro coperchio faccio passare l'ago in questo modo tiro e cerco di fissarlo il meglio possibile logicamente se usate un filo un po' più grande e logicamente i passaggi che dovrete fare saranno un po' meno e ecco qui il bottoncino vedete che poi dopo è fissato qui con un nodino e questo è il bottoncino ora signore ditemi per piacere che così almeno sappiamo se vado avanti ma io un pezzetto ve lo dico ancora perché è una cosa facilissima da fare perché sempre se io trovo tutte le cose che mi ero preparata e che adesso non ci sono più perché secondo me vabbè ne prendiamo un altro po' più se lo trovo ma sì un pozzettino ce l'abbiamo perché volevo 15 e 10 ce la facciamo perché volevo perché magari ci sono delle persone nuove mi ero preparata un bel foglio di carta termoadesiva ma non lo trovo più ci sono magari delle persone nuove che non sanno neanche come fare a fare questa applicazione e allora in un attimo cerchiamo di farla allora carta modello voi troverete il carta modello del pino lo mettete in questa posizione si vede in trasparenza allora questa è una carta termoadesiva questa è rovinatissima qui c'è della colla qui è carta normale si disegna sulla carta normale allora vado a riprodurre aspettate che non vedo niente vado a riprodurre il mio disegno in questo modo così e ok così e poi qui vabbè c'è la stella ma noi andiamo a fare solo il andiamo a fare solo il pino poi facciamo andiamo a tagliare in questo modo a diciamo 2-3 mm più grande rispetto alla mia linea del pennarello fino a poco tempo fa vi avrei detto mi raccomando ferro senza vapore ma effettivamente adesso non ve lo dico neanche perché ho fatto le prove ed effettivamente non succede assolutamente niente ruvido contro il rovescio del mio tessuto posso andare il più in là possibile vedete posso mettere il mio pino molto molto ai bordi perché tanto i bordi sono questi quelli segnati dal pennarello e adesso vi giro vi sposto qui e andiamo a stirare eccoci qua adesso vado a tagliare esattamente sulla forma del pennarello ricordatevi sempre che anche in questo passaggio soprattutto se avete un buon senso delle proporzioni delle buone forme potete andare ad aggiustarvi il vostro disegno poi capisco che questo è un un lavoro così che si è un lavoro velocissimo è un lavoro che mi piacerebbe avvicinasse tante tante di voi che magari non si erano mai buttate a fare patchwork o a fare comunque cucito creativo con con tutte le attrezzature disponibili effettivamente questo lavoro che io in questo momento sto facendo con le forbici si dovrebbe fare con la rotella apposta però logicamente non stiamo facendo tantissimo vedete che eccoci qua sto lavorando solo sull'albero quindi effettivamente è una cosa velocissima ma dobbiamo creare il supporto per l'albero vi giro e andiamo a fare praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio quindi una scacchiera velocissima non sto qui a raccontarvi tantissime cose perché tanto la maggior parte delle cose ve le ho già dette all'inizio del video ma voi no all'inizio del video che vi avevo detto condividete il video l'avete condiviso questo video per piacere fatele brave che io vi controllo no non è vero non ce la faccio controllarvi allora facciamo così andate sempre a vedere il pelosetto del vostro del vostro tessuto va bene anche la tela termoadesiva no io la tela termoadesiva non l'ho mai utilizzata allora dal chiaro verso lo scuro questo lato in una posizione opposta e questo verso l'alto quindi dal basso verso l'alto dall'alto verso il basso e dall'alto verso il basso ma questa è una cosa velocissima guardate non vado neanche a puntare la spilla nel non vado non vado a mettere la colla non vado a puntare gli spilli andiamo così senza paracadute proprio perché voglio fare in frettissima per non scavalcare le signore le signore le mie amiche che fanno la la diretta dopo di me quindi faccio in frettissima questo passaggio ma solo per farvi vedere un colpo come finire la questa applicazione contiamo il nostro punto festone in modo da marilena ha fatto grazie contiamo i nostri punti del punto festone in modo da imparare ancora una volta la cucitura del punto festone e poi vi lascio eh allora dal basso verso l'alto andiamo a ucire così e logicamente dobbiamo andare a sistemare il nostro pino in questo modo apro vedete qui è carta da buttare qui è la colla che attraverso il calore si è trasferita sul rovescio del nostro tessuto di nuovo attraverso il calore noi mettiamo sciogliamo la colla e diciamo una cosa che non si dice ma appiccichiamo il nostro albero punto festone allora eh sulla mia macchina il punto festone è eh chiamato 40 allora non sono capace aspettate 40 eh larghezza del punto uguale alla lunghezza del punto io metto sempre due e mezzo per due e mezzo anche qui da dove parto da un lato da un lato comodo da un lato facile da un lato logicamente non da qui non da qui sotto questo è il lato più comodo che ho metto in posizione abbasso l'ago e lo metto proprio a nel passaggio tra la mia applicazione e il mio tessuto di sotto con la manovella faccio i primi punti a mano allora il mio punto va avanti poi torna indietro poi va avanti poi va dentro e poi torna indietro qui è il momento in cui io posso aprire e girare tutto e quindi cambiare la posizione ecco capito perché non è adatta la tela eccolo allora non ti ho risposto tanto perché avevo intuito che la domanda fosse quella ma siccome andavo avanti a spiegarvelo vedi che poi avresti capito senz'altro allora qui questa è una curva che dolcemente la che dolcemente la mia macchina fa vedete praticamente io il punto festone devo sempre farlo trovandomi l'applicazione la curva dell'applicazione da cucire perpendicolare verso di me quando vedo che la curva è troppo aspettate che forse mi sto mettendo davanti quando vedo che la curva vedete io mano a mano sto andando dritta ma la mia applicazione sta curvando conto 1 2 3 4 va dentro e 5 va fuori nel momento in cui è di nuovo fuori alzo e giro e vado 4 5 di nuovo alzo e giro lo faccio lentissimo 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 5 alzo e giro vedete fino a che poi adesso possiamo andare un po' più veloci e potremo finire il video sfumando no non è vero non posso devo finirlo salutandovi e ringraziandovi tutte 4 5 adesso che non vedo più tanto bene faccio un punto così e poi di nuovo mi sistemo così vorrei farlo alla velocità della luce per aprire e farvi vedere anche questo pinetto in modo da ditemi l'ora ditemi l'ora ditemi l'ora in modo da insomma salutarvi e finire e farvi vedere la cucitura di questo pinetto progetto bellissimo grazie hola maria rosaria ciao grazie a te figurati allora così però io vi devo chiedere una cosa allora di questo progetto preferite 15 e 20 facciamo in frettissima di questo progetto preferite i tessuti della country christmas quindi i tessuti americani bianchi rossi e grigi oppure i tessuti giapponesi oppure i tessuti tintin filo country aspetto e e vedo perché magari in base alle vostre preferenze alle vostre preferenze ci sarà la decisione per la diretta della settimana prossima mi sfrutto fino all'ultimo volevo fare in frettissima e finire tintin filo la nicoletta mi dice io giapponesi e tintin filo country country tintin filo tintin filo tintin filo country country in filo io non lo so sapete io allora di per sé il tessuto country mi fa più natale perché ci fa calore perché ci fa atmosfera perché ci fa ci fa amicizia ci fa sentimenti country tessuti la lucia tessuti americani adesso lucia ti faccio una sorpresa allora innanzitutto vedete che io sto continuando allora una cosa che non vi ho detto è ago di pelle ago per ago per cucire la pelle se gli strati del punto festone che dobbiamo fare se gli strati delle applicazioni sono tante 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 e poi logicamente qui è un tessuto molto morbido e tessuti americani la paola è un tessuto molto morbido e veramente un solo strato bisogna andare un po' più lenti qualcuno dice che dopo qualche lavoro con le applicazioni bisogna anche pulire un po' l'ago diciamo che insomma dipende tanto da quante applicazioni fate da quanto fate che cosa voglio fare io adesso voglio prendere vabbè aspettate che dobbiamo togliere ho perso l'ago togliere logicamente questa bottoncino che abbiamo fatto sul nostro sul nostro sul nostro babbo natale che è il sumica della tazza così ci facciamo anche due risate sul nostro babbo natale però adesso mettiamo questa 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 sistemazione così in modo che io vi posso girare adesso girate di 180 gradi io vi posso girare e vedete non ce la faccio sono tutto storta e vedete che cosa abbiamo cucito oggi allora il nostro copritazza che può diventare ma anche giapponesi ma va ma si il nostro copritazza che essendo fatto con la imbottitura termica può essere anche un sottopentola il nostro vestitino per la tazza così la tisana sta al caldo e il nostro coperchio che può diventare anche una presina io adesso facciamola facciamola guardate il cinema facciamo io adesso con questo bel tazza di tisana vi lascio che oca vi lascio e vi ringrazio allora sapete che ho preparato i tre kit che vi permetteranno di fare tantissimi di questi nel senso che un po' è l'occasione per darvi un po' di tutto quindi un po' di tutti i tessuti di questa collezione un po' di tintin filo che potrete usare per questo e per mille altri progettini un po' di tinti giapponesi e un po' di tintin filo country che potrete usare per questo e per un mucchio di altri progettini io a questo punto mi tolgo perché devo lasciare spazio alla mia amica grazie ci vediamo domani mattina per il progetto giapponese che devo ancora disegnare fra poco con la diretta sul calendario dell'avvento ciao vi giro così così vi ho girato 8000 volte oggi ma adesso vi giro così ciao ciao grazie a voi grazie ciao 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 ciao